Ciao bentornati e bentornati sul canale. In questo video parliamo di un aspetto molto molto importante che riguarda le operazioni con i numeri complessi. E lo facciamo partendo da un semplice esempio. Infatti in questa immagine io ho commesso un errore. Ora vi commenterò i passaggi e il gioco è individuare l'errore che ho fatto. Secondo me pochi riusciranno a trovarlo perché è un aspetto che sebbene sia molto importante forse è poco evidenziato nei libri di testo. Quindi ora concentrati perché starò per commettere un errore e lo devi individuare. Allora cominciamo. Mentre con i numeri reali la radice quadrata di un numero negativo come la radice quadrata di meno 1 è priva di significato, diciamo non esiste, invece nei numeri complessi si assume che la radice quadrata di meno 1 sia uguale ad i, detta unità immaginaria. E quindi i alla seconda è uguale proprio a meno 1. In generale i numeri immaginari sono dei numeri il cui quadrato è un numero negativo. È un numero complesso, è un numero composto da una parte reale e una parte immaginaria. Ad esempio 3 più 4i è un numero complesso dove 3 è la parte reale, 4i è la parte immaginaria. Anche 2i può essere inteso come numero complesso con parte reale uguale a 0, ma anche 7 può essere inteso come numero complesso con parte immaginaria uguale a 0. Comunque abbiamo detto che i alla seconda è uguale a meno 1. Ora calcoliamo i alla seconda in un altro modo. i alla seconda è uguale a i per i, quindi è radice quadrata di meno 1 per radice quadrata di meno 1. Essendo un prodotto posso portare i due termini sotto un'unica radice e si ottiene radice quadrata di meno 1 per meno 1. Meno 1 per meno 1 fa 1, quindi uguale a radice quadrata di 1 che fa 1. In definitiva prima abbiamo calcolato i alla seconda e abbiamo ottenuto meno 1. Poi abbiamo di nuovo calcolato i alla seconda e abbiamo ottenuto più 1. In conclusione meno 1 è uguale a 1. Bene, il mio discorsino è finito. Ora, dato che evidentemente meno 1 e 1 sono due numeri diversi, anche quando si parla di numeri complessi, vuol dire che in tutto ciò che ho detto c'è stato un errore. Se vuoi pensarci con calma puoi mettere in pausa. Tra un attimo diamo una spiegazione di tutto questo. Ok, vediamo di che errore si tratta, perché non è un semplice errore di distrazione, ma l'errore risiede proprio nei fondamentali delle operazioni con i numeri complessi. Allora, cominciamo con i numeri reali. Chiunque abbia studiato le funzioni in ambito reale avrà studiato che una caratteristica fondamentale perché le funzioni siano funzioni è che a ogni elemento del dominio di una certa funzione corrisponda una e una sola immagine. Cioè, detto in parole più semplici, una funzione deve avere un solo valore, deve dare un solo risultato. Prendo una funzione qualsiasi, ad esempio y uguale sen x e se io calcolo il seno per un certo valore di x appartenente al dominio, ad esempio 30 gradi, allora il seno di 30 gradi deve avere un solo valore, un solo risultato, che in questo caso è un mezzo. Non ci possono essere più risultati. E questo è importante perché permette di costruire delle formule che devono dare un solo risultato. Se io ho la formula del volume della sfera, noto il raggio, devo avere quel risultato lì, che dà il volume che ha effettivamente la sfera. Non posso avere due risultati. Le cose invece sono completamente diverse quando si parla di funzioni in campo complesso, cioè funzioni le cui variabili sono dei numeri complessi. Allora in questo caso a ogni elemento del dominio corrisponde almeno una immagine. Questo vuol dire che a ogni x corrisponde almeno un risultato, ma possono anche esserci più risultati. Le funzioni che hanno un solo valore o un solo risultato o una solo immagine, come volete, sono dette funzioni monodrome, che hanno un solo risultato. Ad esempio l'elevamento alla seconda è una funzione monodroma. Se voi elevate un numero complesso alla seconda ottenete una un solo risultato. Invece le funzioni che danno più di un risultato sono dette polidrome e i radicali, in generale, sono funzioni polidrome. Facciamo alcuni esempi. Se io sto lavorando in campo reale e devo calcolare la radice quadrata di 4, ottengo 2. È vero che anche meno 2 elevato alla seconda da 4, ma in campo reale le funzioni devono dare un solo risultato e per definizione il numero positivo. Quindi se lavorate in campo reale scrivere radice quadrata di 4 uguale più o meno 2 è un errore. Se invece lavori in campo complesso, allora questo 4 è in realtà un numero complesso, che casualmente a parte immaginario è uguale a 0, ma è un numero complesso. E la radice quadrata in campo complesso ha un significato diverso dalla radice quadrata in campo reale. È una funzione polidroma che ha due valori, che sono tutti quei numeri che elevati alla seconda danno 4. Quindi ci sarà più 2 e meno 2. Facciamo un secondo esempio. In campo reale la radice cubica di 8 è uguale a 2. Invece in campo complesso la radice cubica di 8 è uguale a 2, ma è anche uguale a i per radice 3 meno 1 ed è anche uguale a meno i per radice 3 meno 1. Perché tutti questi risultati, se vengono elevati alla terza, danno 8. E tra poco vi farò vedere che viene 8. Qualche altro veloce esempio. La radice quarta di 625 in campo reale dà solo 5. Invece in campo complesso può dare 5 meno 5, 5i o meno 5i. Ultimo esempio, la radice quarta di meno 16 è priva di significato in campo reale. Infatti nella definizione di funzione si dice che ogni elemento del dominio corrisponde a un'immagine, ma meno 16 non è un elemento del dominio e quindi non corrisponde nulla a meno 16. Invece la radice quarta di meno 16 in campo complesso ha 4 risultati che sono radice 2 più i, radice 2 meno i, meno radice 2 più i e meno radice 2 meno i. In generale l'indice della radice è uguale al numero di valori. La radice quadrata ha 2 valori, la radice cubica ha 3 valori, la radice quarta, 4 valori eccetera. Qui vi ho mostrato come esempio che i per radice 3 meno 1 elevato alla terza dà proprio 8. Ho utilizzato la formula del cubo del binomio dove a è uguale a i radice 3 mentre b è uguale a meno 1. Se sviluppo il cubo del binomio ottengo questi quattro termini, qui li ho semplificati facendo tutti i passaggi, il primo termine si vede che è uguale a meno 3 i radice 3, il secondo termine è uguale a 9, il terzo termine è uguale a più 3 i radice 3 e l'ultimo è uguale a meno 1. Quindi questi due si elidono e rimane 9 meno 1 che fa 8 appunto. Bene, chiarito questo torniamo all'immagine iniziale e cerchiamo di capire dove l'errore. Qui dico che i alla seconda è uguale a meno 1 e questo è corretto perché è proprio la definizione di i. Il numero i per definizione è quel numero che è elevato alla seconda uguale a meno 1. Invece l'errore è stato proprio all'inizio quando ho detto che la radice quadrata di meno 1 è uguale ad i. Secondo me quasi nessuno ha individuato questo errore perché su tantissimi libri c'è scritto che la radice quadrata di meno 1 è uguale a i. Ma in realtà quello è solo il suo valore principale perché la radice quadrata è una funzione a due valori e quindi deve dare due risultati. Infatti la forma corretta sarebbe che la radice quadrata di meno 1 è uguale a più i ma è anche uguale a meno i. È una funzione a due valori. E chiaramente per i principi di equivalenza se la radice quadrata di meno 1 è uguale a più o meno i possiamo anche dire che i è uguale a più o meno la radice quadrata di meno 1. Cioè i ha un solo valore ma avendo la radice quadrata di meno 1 due valori dobbiamo mettere il segno giusto affinché venga i. Quindi l'errore è stato qui. Quest'uguaglianza non è vera quando ho scritto che i per i è uguale a radice quadrata di meno 1 per radice quadrata di meno 1. Invece dopo l'uguale in questa parte qua che sto sottolineando in rosso non ci sono più errori. È tutto giusto. L'unico errore di nuovo alla fine è quando scrivo che la radice quadrata di 1 è uguale a 1. Invece avrei dovuto mettere più o meno 1. Ma la parte sottolineata è corretta. Infatti se calcolo radice quadrata di meno 1 per radice quadrata di meno 1 l'ho fatto qua sotto ottengo più o meno i per più o meno i che a seconda di come si compongono i segni può valere più i alla seconda che fa meno 1 oppure meno i e alla seconda che fa meno meno 1 per cui più 1. Invece se calcolo la radice quadrata di 1 ottengo anche meno 1 o più 1. Quindi non ci sono errori in quelle uguaglianze. Bene, comunque la cosa importante da ricordare da questo video è la differenza tra le radici in ambito reale e le radici in ambito complesso. È più in generale sapere che l'introduzione delle funzioni polidrome nell'analisi complessa restituiscono una matematica molto più complicata che a volte può sembrare contraddittoria. Però in realtà è utile perché in certi ambiti l'analisi complessa permette di arrivare a traguardi che l'analisi con i numeri reali non è in grado di raggiungere. Spero di essere stato chiaro e che tu abbia trovato interessante il video. Ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di mettere un like se il video ti è piaciuto. Ciao e grazie.